Ucciso un uomo di nazionalità ucraina trovato in casa morto a causa di ferite inferte sul suo corpo da un coltello. L'omicidio del 37enne nel centro antico di Castellamare di Stabia in provincia di Napoli, una zona dove risiedono molte persone dello stesso paese devastato dalla guerra. Ancora non sono state fornite le generalità della vittima. L'omicidio sarebbe la conseguenza di una lite scoppiata in nottata nell'appartamento del quartiere ad alta densità criminale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti diretti dalla dirigente del commissariato sabbiese Amalia Sorrentino. Fermato un sospettato, il magistrato di turno della procura di torre annunziata sta ricostruendo la rete dei legami familiari e di amicizia della vittima per ricostruire quanto avvenuto in casa nella notte e quante persone siano state coinvolte nell'omicidio.